Arriva questa trasferta insidiosa di Crotone, come vi state preparando oppure in merito al cambio modulo? Benissimo, benissimo, diciamo che dopo un risultato comunque positivo a Foggia siamo più tranquilli, più sereni e ci ha permesso di lavorare più tranquilli. Ultimamente anche gli episodi non vi girano a favore, cosa si dice in merito? No, ma questo dobbiamo essere sereni perché magari all'inizio ci girava tutto bene, quindi prima o poi girerà per il nostro favore. A Capitano è il momento di prendersi forse qualche responsabilità in più, cosa ti aspetti da Crotone? No, ma ovviamente le responsabilità me le prendo sempre, diciamo che ho giocato tante volte quando non dovevo giocare per causa dei dolori e infortuni vari, ma ho sempre giocato quindi su questo aspetto non devo fare molto di più. Il Crotone mi aspetto è una squadra che comunque non è quello che la classifica dice, una battaglia sarà durissima ma siamo pronti per affrontarla. Ti trovi meglio con il nuovo modulo o con il precedente? No, guarda, l'ho detto abbastanza volte questa cosa. Diciamo che il 4-3-3 ci ha portato fino alla classifica dove siamo, non dobbiamo comunque pensare che il nostro modulo sarà il 4-3-1-2 fino alla fine perché magari ci può dare anche dei risultati in più e l'altro modulo. Diciamo che è bello avere due moduli per affrontare le altre squadre.